bitcoin sotto la 50 ma la 50 ma ed ora parliamo di bitcoin charts prima analisi week 17 benvenuto e benvenuta a te a casa benvenuto alberto buon martedì ciao ivan buon martedì benvenuto a te benvenuto a te a casa che ci stai seguendo e cos'è accaduto in questi giorni e sono accadute robe strane al bitcoin d'altronde abbiamo parlato di ieri spiegando per filo e per segno cos'è accaduto guardando tutto quanto però inevitabile che a breve la struttura si è rotta quindi siamo una struttura che fa accendere un campanello noi siamo sempre super bullish però bisogna analizzare i dati esattamente come sono quindi è negabile dobbiamo andare a vedere e vediamo quali sono secondo noi o secondo l'analisi tecnica i riscontri e i possibili target piuttosto che quello che può accadere da qui in avanti quindi stai con noi fino alla fine passiamo la parola momentaneamente per qualche secondo allo sponsor della puntata di oggi e ci rivediamo tra un attimo by beat lancia la seven day challenge il periodo di registrazione di questa competizione è dal 16 di aprile al 28 di aprile la competizione sarà tra il 23 e il 30 di aprile possono partecipare tutti coloro che al momento della registrazione avranno almeno 0,01 btc oppure 0,32 ethereum in portafoglio le regole della competizione le trovi tutte nel link che ti mettiamo qui sotto possibilità di vincere da 2000 a 33 mila per il primo classificato fino a 400 dollari per il duecentesimo classificato dipendendo dal numero di partecipanti che si sono iscritti partecipa con noi a questa challenge tutte le info le trovi nei commenti grazie a by beat per sponsorizzare parliamo di bitcoin noi parteciperemo parteciperemo a questa seven day challenge dal 23 al 30 qui sotto trovi un link con tutte le informazioni però prima di fare questo ti consigliamo vivamente di guardare il nostro tutorial che ti spiega come funzionano le piattaforme perché potrai usare qualsiasi prodotto nella competizione quindi guardati il tutorial sulla su come funziona la piattaforma sotto il tutorial se non sei ancora registrato in by beat e vuoi partecipare trovi il nostro link così contribuisce anche un po con il canale ti registri attraverso il nostro link e partecipiamo tutti insieme dal 23 al 30 esatto esatto e in risposta a chi ci ha chiesto nei commenti come stanno andando i vostri trade quelli che abbiamo fatto vedere proprio su by beat allora massimo ne sta il trade sul bitcoin ci è stato liquidato anche noi sbagliamo lo confesso siamo sono rimasto sono stato colto da quello che è accaduto domenica c'è quanto poteva essere una cosa prevedibile mea culpa non avevo fatto attenzione alla ciclicità del delle stagionalità del del mining dato che in questo momento è inevitabilmente cioè nel bene nel male comunque a predilizione in in cina in diverse regioni della della cina comunque non entriamo nel particolare di questo mentre per il trade su ethereum sta andando alla grande margine margine incredibile sempre guadagno quindi non non siamo super positivi e va benissimo allora comunicazione di servizio è vero per quel che riguarda chi ha partecipato ai commenti di sabato scorso ricordiamo chi commentava e ti invito a farlo anche in questa puntata perché siamo nel mese della formazione quindi tutti i commenti tra tutti i commenti verrà estratto un giveaway durante la settimana dell'abbonamento annuale alla nostra newsletter mentre il sabato del corso su bitcoin blockchain e altcoin il vincitore del corso grazie ai commenti di sabato scorso uno di tamburi è mauro m mauro m quindi ti invitiamo caldamente e lo scriviamo anche qua sotto ah l'avevi già messo il corso tra i commenti di sabato mauro m per ricevere il giveaway scrivici indicando la tua email a info chiocciola cripto learners punto it abbiamo daniel tancredi e gianni primo che sappiamo che sono persone che ci seguono perché abbiamo visto diverse volte i loro commenti complimenti e grazie dovete mandarci una mail per autorizzarci a inviarvi la nostra newsletter l'abbiamo mandata ieri però potete farlo anche oggi vi aggiungiamo manualmente gianni primo e daniel tancredi scriveteci la mail con la mail che preferite quindi poi noi prenderemo quella mail e vi aggiungeremo alla newsletter let's go commentate perché newsletter gratuita corsi gratuiti non si trovano da tutte le parti partiamo da allora prima del grafico bitcoin partiamo da qua nel senso vogliamo far vedere questo è il grafico e adesso ingrandiamo un attimo il grafico che fa vedere il grafico che fa vedere l'abbiamo anche postato nella newsletter di ieri è una piccola perla che facciamo vedere per la parte dati un chain le utxo che sono le unexpanded transaction output cioè le movimentazioni detto in parole povere del dei coin dei bitcoin sulla blockchain questo per far notare che in questo momento una grossa percentuale di coin quindi di bitcoin sono stati spostati sulla blockchain al di sopra del trilione di dollari di capitalizzazione di mercato cioè oggi il bitcoin nonostante sia stato quel crollo dovuto a una specifica ragione non ne parliamo più ma comunque ormai si sa ampiamente l'abbiamo comunicato su tutti i nostri canali e nonostante quel crollo che in parte ha recuperato ma in piccola parte si conferma anche in questo momento al di sopra del trilione di dollari come asset e lo vediamo da qui si è creato proprio un cluster quindi a partire dai 50 circa 53 54 mila dollari di valore di prezzo il bitcoin è al di sopra del trilione di dollari si sta creando un cluster veramente molto importante così di movimentazione di prezzo quindi scambio di mano di coin al di sopra del trilione lo abbiamo avuto nello stesso periodo o meglio nel periodo di correggimi se sbaglio era settembre quando il prezzo del bitcoin era intorno ai 10 mila dollari settembre ottobre dell'anno dell'anno scorso quando eravamo sotto i 10 mila dollari e casualmente albi avevamo fatto una ventina di giorni al di sotto della 50 moving average sarà un caso proprio quello di cui parliamo oggi non secondo me non è assolutamente un caso e mi sento di paragonare molto la situazione attuale con la situazione che abbiamo avuto in quel momento e adesso andiamo a vedere meglio per quel che riguarda il quindi neanche oggi riusciamo ad essere meri stiamo andando a cercare il punto di ripartenza perché questo è noi crediamo fermamente che siamo ancora a metà o prima della fine ovviamente di questa bull run andiamo a vedere dove possiamo arrivare da dove si riparte perché mese rosso allora mese rosso e andrebbe a fermare quello 1 2 3 4 5 6 7 lo 7 esatto 1 2 3 4 5 6 7 dei sette delle sette candele verdi da un certo punto di vista facciamo il tifo ovvero io ne parlavamo prima per una chiusura del mese poi ci prenderai per fatti ma non siete in realtà sì però ci farebbe piacere vedere una chiusura del mese stiamo facendo un po la richiesta dei regali non c'è più il natale come facciamo la letterina a babbo a babbo cripto facciamo un ulteriore letterina ci piacerebbe vedere il mese di aprile non in forte calo però con una candela rossa questo secondo noi fa bene a ed è normale in una fase bull run avere anche delle delle fasi di riaccumulazione di di pausa del prezzo dopo una corsa consolidamento consolidamento dal prezzo così così ampia quindi ormai mancano una decina di giorni stiamo a vedere cosa succede e lo andiamo a vedere meglio scendendo come come time frame quindi andiamo sul sul daily inseriamo un po di trazzature allora eccoci ahimè ecco le medie mobili quella candela quella di domenica era riuscita queste sono le simple moving average o ok togli quelle lì bravo bravo ecco ti ho lasciato solo la 50 esatto questa come dicevamo proprio ieri nella newsletter noi la usiamo tantissimo ed è la unica che teniamo veramente in considerazione e se scorri indietro rimpicciolisci albi vai fino a ottobre dello scorso a eccoli lì esattamente lì settembre ottobre dello scorso anno quando invece siamo andati al di sotto come vedete ha fatto da supporto tre volte al bitcoin questa 50 moving average domenica era riuscito a chiudergli sopra come abbiamo detto ieri nella newsletter importantissimo che anche la giornata di ieri terminasse al di sopra di questa 50 moving average non ce l'ha fatta per proprio centinaia di dollari e a questo punto siamo al di sotto cosa non non bella l'ultima volta che siamo andati sotto è proprio stato a settembre dell'anno scorso dell'anno scorso e ci siamo rimasti per 36 giorni prima di ritornare su quindi lo scenario che noi tifiamo ovviamente è che nella giornata di oggi ci ritorni subito sopra siamo andati a fare un giretto sotto abbiamo preso un po d'aria e ripartiamo ma se dovesse anche oggi restare sotto si apre potenzialmente qualche giorno qualche settimana dove il prezzo rimarrà al di sotto e questa moving average questa media mobile è calcolata sulle chiusure 50 periodi quindi non si inclina velocemente c'è la possibilità che rimanga laterale per anche 15 20 giorni e quindi il prezzo potrebbe rimanere incollato e rimanere in questo range fra i 51 52 55 adesso poi andiamo a vedere anche i cluster i supporti che che sono rimasti andiamo a vedere scendiamo sul sul for hours adesso e mettiamo un pochettino di tracciature volume come dicevamo non ce n'è tantissimo se non quello che c'è stato durante domenica dovuto al blackout nella regione cinese dove 21 miners sono sono stati per diverse ore non operativi ovviamente è stato poi ricomprato subito questo questo dip tutta una serie di motivi dati un chain di analisi si è proprio visto che i grossi detentori long term holders non hanno venduto un bitcoin continuato a fare ad aggiungere a fare accumulo esatto allora interessante vedere i livelli dove si è fermato diamo il volume i livelli dove si è fermato ecco qua abbiamo questo cluster importantissimo questo questo pavimento o resistenza scusami supporto intorno ai 51 52 mila dollari ha fatto proprio da appoggio per il punto critico dove ha toccato il minimo ed è ritornato su poi qui la mia bullishness è inarrestabile nel momento in cui vedo in termini di pattern un double bottom ricordiamo il double bottom sul bitcoin è ovvio sempre no financial advice ma finora è stata una certezza dopo un double bottom c'è sempre stato un una risalita più o meno immediata questo potrebbe andare a incontrare quello che diceva prima ivan il fatto di di riuscire a chiudere la giornata di oggi un'altra volta al di sopra del della moving average della 50 il target del double bottom lo vediamo subito assieme è questo sbagliato tracciatura ecco sarebbe questo qua a partire dal dal fondo il primo l'ha fatto a 53 giusto albi primo botto il primo sì 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 il non il wick candelone esatto non considero quello considero qua dove abbiamo due la chiusura esatto sì intorno ai 53 53 e quella di stamattina quello di stamattina poco più di leggermente più alto quindi interessante che il secondo bottom è più alto del primo se dovesse confermarlo e rompere quella che è la neckline avremo un target intorno al 61 mila 61 mila e 700 se lo fa in giornata tanto di guadagnato andiamo a vedere nel daily dov'è il livello della 57 e a 56 e 500 56 e 500 quindi se ipoteticamente dovessi chiudere a 61 mila liete testato non mi aspetti che lo faccia oggi se lo fa lo farà nei prossimi due giorni sì sì è un po' ambizioso in questo momento come target però stiamo a vedere solo un'ipotesi di possibile sviluppo bitcoin ci ha abituato anche a quello sì così all'improvviso i venditori i venditori spariscono cominciano a entrare acquirente il prezzo va anche perché ce ne sono sempre di meno di bitcoin quindi la liquidità così bassa fa spostare molto velocemente il prezzo non è detto però vorrebbe dire un 10% nella giornata di oggi secondo me se va a target premesso che deve confermare il double box e romperlo e quindi la rottura sarebbe i 57 e 4 e 74 che sarebbe comunque già al di sopra sì 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 sarebbe al di sopra una chiusura lì al di sopra questo lo può fare tranquillamente oggi questo mi aspetto che lo possa fare 57 lo può fare quello che conta è poi il daily potrebbe farlo in questa quattro ore e poi prima di sera ritornare al di sopra quindi i time frame più grandi diventano importanti per la 50 la cosa che mi piace molto è che siamo totalmente neutrali come come funding quindi questo è positivo a vedere il prezzo muovere perché finiscono tutti quei giochi da parte di di grosse mani o speculatori dove andando contro l'eccedenza di long riescono ad acquistare bitcoin senza muovere il prezzo anzi addirittura riescono a comprare spot a prezzi più bassi e viceversa andiamo a vedere velocemente dominance sì sì volevo vedere albi quali sono i primi in caso invertirsi di nuovo quindi continua la sua discesa il primo il primo target sarebbe quello lì di 50 giusto il cluster quanto è 51 lo cluster 4 è 51 e 52 51 e 52 ecco un'altra cosa che dicevamo ieri non vogliamo assolutamente vedere il bitcoin al momento al di sotto di questo prezzo perché metterebbe a rischio proprio la struttura generale creando un nuovo basso più basso rispetto a quello che è quanto era albi l'abbiamo visto 49 beh abbiamo questo è importante esatto una chiusura sotto il 50 337 50.337 diventa bruttina diventa bruttina perché una 4 ore al di sotto di quello formerebbe un basso più basso e quello inverte e cambia completamente la struttura del grafico esatto dubito che lo faccia perché in una burran non fa tendenzialmente questo tipo di cose però teniamolo in considerazione quindi il punto dove io personalmente rientrerò se me lo permetto ovviamente il prezzo è proprio in quel cluster fra i 51 e 52 e dove piazzerò i miei ordini by the dip se me lo permette altrimenti che ritorni dove deve ritornare poi non ne abbiamo parlato nelle precedenti puntate però una cosa indubbiamente su cui da tenere presente è questa fase di stanchezza qui vediamo c'è una divergenza importante sull'RSI rispetto all'andamento del prezzo questo a partire da febbraio anzi ma cosa dico a partire da gennaio abbiamo avuto massimi sempre in aumento pur rallentando e RSI in calo questa è una divergenza molto importante è tipicamente bearish però ci sta anche in una fase di spalmata nel tempo di consolidamento quindi questa è comunque è un qualcosa a favore dei bear che va va menzionato così come la forza di sotto della 50 moving average manca proprio la forza no? che poi lo si vede bene anche dal volume perché un'altra indicazione del volume è picco raggiunto il 10 gennaio e vediamo volume costantemente in calo non è una cosa che deve far allarmare sul medio lungo periodo perché lo possiamo paragonare un attimo a quello che è accaduto nel 2017 ci sono state queste fasi lo vediamo qua guarda qua ma in realtà è questa da gennaio ad aprile del 2017 il volume ha avuto un picco poi pian pianino è calato prima di iniziare la fase guarda te proprio il 30 aprile che si ripeta esattamente questo questo scenario lo vedo molto simile a quel momento lì e ci troviamo ci siamo trovati ad aver avuto un inizio di anno dove il bitcoin era paragonato a 2017 in vantaggio cioè secondo noi era avanti nei mesi cioè ha fatto molto più velocemente una corsa notevole che invece nel 2017 l'ha iniziata a fare verso cioè era in anticipo di almeno due o tre mesi può essere che in questo momento sta riprendendo respiro e si sta allineando con quella che è stata la bull run del 2017 e va bene perché sta risettando un po' tutti gli indicatori anche di dati on 100 dal nupo al sopra risettato esatto quindi sul medio e lungo periodo è qualcosa di veramente importante e utile per il proseguimento della bull run sul breve ovvio siamo al di sotto c'è sempre più incertezza siamo al di sotto c'è il rischio di una potenziale rottura adesso ci allarghiamo di nuovo una potenziale rottura allora sul brevissimo c'è stata una rottura ovvio però sta tenendo ancora come diceva Ivan questi higher low questi bassi sempre più alti li sta ancora tenendo è fondamentale fondamentale in una in una bull market in un bull market è fondamentale se c'è un basso più basso non siamo il sabato avevo menzionato questo temibilissimo ascending wedge e in effetti l'ha rotto e è andato a romperlo proprio verso il basso ricordiamo il target potenziale è 43.000 quindi la base dell'ascending wedge o addirittura facendolo partire da qui sarebbe 37.000 veramente improbabile che ci possa arrivare però è da considerare anche quello come dicevi tu Ivan secondo me se tiene se tiene questi due livelli qui come sta facendo ci siamo rimaniamo lì rimaniamo lì per un po' si bravo e si sta che possa andare sideways per ancora qualche tempo magari chiudere addirittura il mese sai cosa manca in questo momento manca tutto l'entusiasmo che c'era a gennaio tutto il microstrategy tesla Elon Musk tutta la narrativa di tutti vogliono essere in bitcoin anche se sta avvenendo quotidianamente non si percepisce più quindi generalmente non c'è più questa percezione che stanno entrando aziende lo stanno facendo sempre ugualmente ugualmente sì però non c'è più è un po' come se la storia già è passata lo sappiamo che le aziende arrivano lo sappiamo che gli investitori grossi grossi investitori stanno entrando in bitcoin lo stanno consigliando ai loro clienti eccetera eccetera però è come se è stata messa da parte per un attimo poi tornerà perché la narrativa è fondamentale per il prezzo BTC e questo apre uno scenario possibile qui entriamo un po' nella nella cripto fantascienza però basandoci sui dati dati tecnici allora market cap dominance quindi dominance del bitcoin rispetto alle altcoin guardiamo questo poi chiudiamo che non vogliamo tenere il video troppo lungo questo è un meraviglioso bearish retest bearish retest inteso che aumenta la dominance delle altcoin quindi altcoin season rispetto al bitcoin vediamo se tiene se comunque forte volatilità abbiamo visto che al calare di bitcoin domenica domenica le altcoin hanno performato in maniera devastante negativamente parlando rispetto al bitcoin si sono un po' riprese ma non come il bitcoin quindi sempre attenzione a chi dice ma questa bull run quando arriverà la fine le altcoin reggeranno perché sono più mature rispetto nel 2017 corrono di più ma stornano di più l'abbiamo visto anche stavolta cioè binance che è ritornato già a 500 ha toccato i 410 cioè perdendo il 24 il 25% mentre bitcoin stava perdendo il 13 il 14 corrono di più ma perdono anche di più quindi esatto quindi detto questo quello che potrebbe accadere è da qui a fine mese il bitcoin rimane in questa fase di leggero recupero barra side sideways che cosa accadrebbe come un po' accennato Ivan la narrativa è meno forte c'è meno entusiasmo in questo momento sul bitcoin o meglio non è che c'è meno entusiasmo meno entusiasmo rispetto ai mesi di dicembre e gennaio dove era inevitabile parlare di aziende che entravano stanno entrando ma ci si è un po' abituati diciamo esatto questo è il grande problema della community che ci si è abituati quando si assuefa si stanca e dato che le le altcoin stanno pompando stanno andando bene lo vediamo da qua anche dalla dalla capitalizzazione delle altcoin per quanto adesso c'è stato si sta formando struttura c'è stato un leggero ritracciamento dovuto da quello che è caduto in questi giorni un bitcoin che dà stanchezza e rimane sideways orizzontale lascia spazio a altcoin e soprattutto defi la defi ha avuto il suo grande momento di entusiasmo lo scorso anno da aprile fino ad agosto circa poi negli ultimi mesi è stato un pochettino fermo abbiamo visto in questi in questi ultimi giorni settimane che molte coin della defi sono ripartite da chainlink maker andavano andavano meglio rispetto a tutte le altre altcoin proprio il settore defi maker compound uniswap lo stesso chainlink come hai detto tu performavano meglio rispetto alle altre altcoin può essere che ci sia un altro pezzettino di ciclo della defi lo vedremo dicialo tu facciolo sapere nei commenti facciolo sapere nei commenti così taccati pure alla newsletter bene 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 siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine anche per oggi la puntata non abbiamo visto e tir volevamo concentrarci un po' su dove può andare che cosa può fare il bitcoin tenetelo tenetelo bello sotto controllo ricordate importante un campanello siamo al di sotto di questo importante moving average quindi dobbiamo stare attenti e che più dobbiamo dire Albi che oggi pomeriggio non ci sarà l'approfondimento giusto quindi ci rivediamo poi giovedì mattina con il charts e commenta per l'estrazione metti un bel icone sottoscriviti al canale abbiamo un target da raggiungere mancano dieci giorni ci mancano cento subscriber aiutaci dobbiamo raggiungere questo cinquemila target che ci eravamo messi un mese fa fino aprile cinquemila subscriber quindi schiaccia la campanellina e sottoscriviti grazie mille per aver seguito fino alla fine grazie mille Albi aspettiamo le mail di Daniel e Gianni esatto un abbraccio e di Mauro e di Mauro che ha vinto il corso un abbraccio a tutti un abbraccio a te ciao ciao Albi buona giornata Alberto e Ivan di CryptoLearn